Mirko Brunetti alla corte di Maria De Filippi? Le indiscrezioni sempre più insistenti. Si rincorrono i rumors che legano il nome dell'ex fidanzato di Perla Vatiero ai programmi della conduttrice. Ma cosa c'è di vero? Dopo la rottura, ufficializzata in contemporanea sui rispettivi canali social, del rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. In molti si chiedono quale sarà il futuro di questi due ragazzi che hanno segnato la scorsa stagione televisiva, con le loro turbolente vicende. Prima a Temptation Island alla fine del quale si erano lasciati e poi nella casa del grande fratello in cui il loro amore è rifiorito, per poi naufragare qualche settimana fa. In molti si chiedono se rivedranno questi due ragazzi in tv e negli ultimi giorni. Il nome che ricorre nei rumors legati alla nuova stagione televisiva è quello di Mirko Brunetti associato. Niente meno che a quello di una delle regine della tv italiana, Maria De Filippi. I primi rumors che accostavano l'ex geffino a uno dei programmi della conduttrice è di qualche giorno fa. La voce che girava sul web era quella che vedeva Brunetti ormai single. Dopo la rottura con Perla, nuovo tronista di Uomini e Donne, una voce non confermata. Ora a infiammare il web è un'altra ipotesi, secondo cui Mirko Brunetti potrebbe si approdare alla corte di Maria De Filippi. Ma in quella della prima serata del sabato sera in qualità di postino dice posta per te. Addirittura l'ex geffino, che non conferma, né smentisce, né commenta in nessun modo, avrebbe già sostenuto un provino per provare ad entrare nella squadra dei fidatissimi portalettere di Maria, pronto a montare su una bici e recapitare messaggi in ogni angolo d'Italia. C'è da ricordare che, il programma che ha fatto conoscere al pubblico Mirko Brunetti, il reality dei sentimenti Temptation Island, è comunque un prodotto di casa fascino. L'azienda di produzione che fa proprio capo a Maria De Filippi. Scopriremo nelle prossime settimane quanto ci sia di concreto in questi rumors e quanto invece siano frutto delle speranze dei fan.